C'è tempo fino a mercoledì 9 giugno per aderire a Siis Isili, il progetto con cui la regione siciliana sostiene gli operatori del settore turistico attraverso tra l'altro l'acquisto di servizi di pernottamento. Possono aderire esclusivamente le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere non presenti nell'elenco pubblicato lo scorso novembre che offrano pernottamenti sul territorio siciliano. alberghi, villaggi turistici, alberghi diffusi, affittacamere, bed and breakfast, agriturismo, turismo rurale, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, residenze turistico alberchiere, campeggi, ostelli, rifugi. La registrazione va fatta tramite la piattaforma siisisiliregionesicilia.it utilizzando la firma digitale e il codice turistat. Da ogni struttura ricettiva saranno preacquistati i posti letto pari a tre volte quelli dichiarati sulla piattaforma turistat. È un modo, evidenzia l'assessore regionale al turismo, Mallio Messina, per dare la possibilità di aderire anche a chi non ha partecipato al primo bando. Il mio auspicio continua e che aderiscano in tanti perché il governo regionale ha fatto uno sforzo economico importante che ci consentirà di ottenere un doppio risultato. Da un lato sostenere gli operatori economici ormai estremati dalla crisi causata dalla pandemia e dall'altro promuovere l'immagine della Sicilia e incentivare il flusso turistico. Sono ancora disponibili 23 milioni di euro provenienti dal piano operativo FERS 2014-2020 con cui la regione potrà acquistare da ciascuna attività ricettiva servizi turistici di pernottamento per un importo massimo di 200 mila euro che saranno poi messi gratuitamente a disposizione dei turisti attraverso appositi voucher.